gentili telespettatori buona giornata porro 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 risponde a prodi porro prodi prodi porro dice ma sei impazzito e beh ogni tanto non posso fare delle scenette un po così no siete bigotti allora porro 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 risponde a prodi e dice noi siamo di un altro mondo viviamo in un altro mondo questi signori sono come una fila di persone che bevono e quindi diventano poi sono amico di tutti allora nicola porro risponde a a prodi perché prodi ha detto ma cosa si cosa si deve andare a fare lì ad atreio perché uno deve andare lì ospite di questi qua lì dove c'erano le carceri romane quindi che posto è delle carceri romane hanno fatto lì le scenette al al castello e prodi dice hanno fatto bene ha fatto bene la schlaina non andare perché che ci vai a fare poi lì insomma invitano quello spagnolo quel franchista franchista era un regime fascista regime del generalissimo francisco franco quindi perché andare in mezzo a a a il leader di vox e musk perché musk che cosa musk solo perché un imprenditore dobbiamo dire che che è impresentabile è una persona particolare un personaggio personaggio particolare che però addirittura da non presentarsi perché c'è musk sinceramente forse più l'invidia che c'è musk ecco e così prodi dice che parlare con vox o con musk è vivere in un altro mondo che è il mondo che non è il mondo quello normale e così nicola porro direte 4 conduttore ospite di fratelli d'italia la kermesse dice è il mondo di tutti quanti noi noi milioni di spagnoli che non riescono a capire che il loro premier sia diventato premier senza avere la maggioranza e avendo fatto un'amnistia doc quale mettere dei criminali al governo persone condannate che possono governare con lui e se dire che questa è una gigantesca opera di corruzione mi sembra vivere nel mondo normale non in quello che prodi accusa e non mi sembra vivere in un altro mondo quello di parlare con chi si è comprato twitter che pensa allo spazio che si è inventato la tesla che dice che l'ambientalismo non deve essere necessariamente ideologico non mi sembra che questo voglia dire di vivere in un altro mondo questo vuol dire vivere ed essere connessi con un mondo normale che quello dei giovani che ad atreio hanno colto rispetto a questi signori che ancora tra loro si tengono uno con l'altro da qui la stoccata conclusiva come in una fila di ubriaconi che se ne uno cadono tutti e sì beh diciamo che la sinistra sta cercando di strumentalizzare anche questa manifestazione annuale e la sinistra ha strumentalizzato indico e la bambina strumentalizzato il caso giulia ha strumentalizzato tutto tutto quello che succede in italia viene immediatamente sciacallato strumentalizzato dalla sinistra per accusare il governo delle peggiori nefandezze e poi sono tutte fanfaronate tutte balle ecco in questi giorni adesso la sinistra sta cercando di denigrare questa manifestazione allora viene in vi vengono invitate diverse persone ci sono persone di sinistra di centro sinistra di destra e di centro sinistra io vi dico loro dicono che questo leader di vox è un impresentabile perché ha detto che un altro dovrebbe essere appeso per i piedi allora capisco che sono affermazioni che non devono essere fatte sono affermazioni violente però guardate che portare in una manifestazione una persona come quella e dialogare fa comunque bene perché il dialogo porta anche persone di questo tipo che parlano di appendere gli altri per i piedi magari parlare con altre persone ascoltare parlare contra cambiare idee e pensieri può magari contribuire a calmare questo tipo di persone quindi io dico che il confronto va fatto perché se noi diciamo che con quelli non si parla la chiusura il i compartimenti stagni non portano certo a qualcosa di positivo ecco pertanto loro che hanno nel nome democratico partito democratico loro che si sentono i difensori della costituzione i difensori del ben pensare ma io ricordo a questi signori che si freggiano del termine democratico ogni due secondi che democrazia è confronto democrazia è parlare con gli altri rispettare le idee degli altri riascoltarli ribatteri in maniera civile quindi se voi foste davvero democratici prodi schlein avrebbero preso sarebbero andati vabbè prodi dice non mi hanno invitato la schlein sì la schlein doveva andare a questa manifestazione e dire per favore sedetemi vicino a questo qua di vox perché voglio dirgli io due parole e la schlein lì poteva dire scusi signor abscal ma lei non si vergogna di aver detto in una democrazia di prendere una persona e appenderla per i piedi guardi che le cose si risolvono parlando con i voti con la politica non appendendo le persone per i piedi quindi lei che è qui in un paese democratico dica davanti a tutti cos'è lei un estremista lei che si che dice queste cose cos'è un estremista è una persona pericolosa ci dica lo dica qua davanti a tutti ecco io se fossi stato in schlein sarei andato a dire queste cose a questo signore al posto di accusarlo e non presentarsi era meglio andare lì affrontarlo ma tranquillamente dire scusi ma lei non è quello che ha detto che si appendono gli avversari per i piedi ma abbiamo capito male c'era un retropensiero e un modo di dire spagnolo un modismo come dicono in spagna o che cosa o lei è una persona che non è democratica ce lo spieghi così siamo qui per parlare ecco avrebbe dovuto andare la schlein a parlare con questa persona non dire non ci vado non ci parlo io non metto piedi dove ci sono i franchisti e i nostalgici del fascismo e invece no schlein questo è il punto la democrazia è parlare anche con quelli di cui non condividi le idee è così che funziona grazie a tutti e arrivederci a presto